Anche Ancona al centro-destra, Pesero ultima a Roccaforte Dem. Trovata a Ortisei il petrianese scomparso da quattro giorni. Arriva la cittadella del basket, nodo parcheggi per Villa San Martino. Al mercato San Decenzo e la solidarietà per gli alluminati romagnoli. Cambia Rossini News, da giugno il TG è alle 19.30. Buona serata a tutti voi, telespettatrice e telespettatoria. Buona serata a tutti voi, telespettatori di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio serale con l'informazione di Rossini News. Telegiornale di martedì 30 maggio che apriamo con la politica perché siamo all'indomani della vittoria storica, vittoria elettorale di Daniele Silvetti a nuovo sindaco di Ancona. Una conquista epocale per il centro-destra nel capoluogo d'Orico che anche nel territorio pesarese porta ad un'attenta analisi del voto, come vediamo in questo primo servizio. L'amministrazione della regione Marche è ora quattro capoluoghi di provincia su cinque con sindaci di centro-destra. La vittoria elettorale ad Ancona di Daniele Silvetti di Forza Italia, espressione della coalizione di centro-destra che ha primeggiato al ballottaggio su Ida Simonella del centro-sinistra, è un tassello che non può lasciare indifferente la politica di un territorio pesarese, ultimo baluardo di una corrente sempre più accerchiata da una maggioranza di tutt'altro colore che continua a lavorare mietendo successi. Una giornata storica che ha visto trionfare la città di Ancona, ma anche tantissime città all'interno della nostra nazione, città che non rimane da sempre alla sinistra. È un risultato problematico che testimonia il fatto che la gente si è stancata di questa sinistra che è più legata alle logiche di potere che all'interesse delle persone. Ora è il momento di mettersi a lavorare, ma stiamo già lavorando da mesi per Peso, per il nord delle Marche, per Fano, per tutte le città che andranno al voto, perché ora veramente di liberare queste città da un'oppressione che ormai pesa da 70 anni in maniera molto forte. Il centro-destra che si prende Ancona dopo oltre 30 anni impone dunque riflessioni agli errori del Partito Democratico da correggere in vista delle elezioni amministrative che chiameranno al voto Pesaro e Fano nel 2024. Probabilmente il centro-sinistra, come purtroppo capita spesso, non riesce ad intercettare quelle che sono le esigenze dei propri cittadini e quindi questi sono risultati, risultati che probabilmente non nascono anche da qualcosa che non andava probabilmente anche prima, perché dire che tutta colpa della neocandidata sarebbe sbagliato e probabilmente appunto non si è riusciti ad andare incontro alle esigenze. Ma dall'altra parte l'errore più grave secondo me è quello di non essere riusciti a fare una coalizione ampia. Il centro-sinistra si è presentato diviso, tantissimi candidati a sindaci, i 5 Stelle sono andati da soli e tutte queste cose alla fine si pagano e pesano. Oggi l'alleanza è importantissima e quindi quando ci si presenta è importante presentarci uniti almeno con quelle forze che si rifanno al centro-sinistra. Ora dobbiamo cercare tutti a livello regionale, quindi come partito, ma anche come chi ha un ruolo, come il mio, ma anche tanti altri che sono amministratori e che rappresentano comunque una parte politica, ma ovviamente rappresentiamo tutti i cittadini. Dobbiamo cercare di riprendere, io dico sempre, il contatto con i cittadini, con il contatto diretto che è molto faticoso ma che è fondamentale. È stato ritrovato in buone condizioni di salute il quarantenne commercialista di Gallo e di Petriano, Matteo Fabrizioli, scomparso e irreperibile da venerdì scorso a quanto pare per un allontanamento volontario. I familiari avevano dato l'allarme dopo che Fabrizioli si era allontanato in seguito ad una lite familiare, famiglia che aveva anche diffuso via social foto di riconoscimento. Allertati i carabinieri, le segnalazioni dei militari a livello nazionale hanno portato a individuare il quarantenne a Ortisei, in Alto Adise. L'uomo è stato riconosciuto dai carabinieri della cittadina della Val Gardena mentre passeggiava per le vie della città alle tre di notte. Alla notizia delle ricerche a tappeto che duravano da quattro giorni, Fabrizioli si è convinto a rincasare nel Pesarese e ricongiungersi con i suoi familiari. Cambiamo argomento perché stanno per partire i lavori nel quartiere pesarese di Villa San Martino per la realizzazione della cosiddetta cittadella del basket e di casa VL. Un grande investimento nell'impiantistica sportiva della città che ieri sera è stato al centro dell'incontro fra il comune di Pesaro e i residenti del quartiere alquanto preoccupati per l'impatto che la novità avrà sulla zona soprattutto in tema di parcheggi. La cittadella del basket e casa VL stanno per prendere forma. Ieri sera il sindaco Ricci e gli assessori Pozzi e della Dora hanno tenuto un incontro pubblico nei locali dell'impianto Facchini di Via Togliatti per illustrare la grande opportunità che si sta creando nel quartiere all'interno di un'animata assemblea di residenti che temono al contrario l'impatto che la novità avrà sul quartiere. Una buona assemblea, ovviamente la partecipazione è faticosa quando discuti con le persone però mi pare che abbiamo chiarito quanto sia strategico questo progetto un centro federale nazionale del basket, come si vada ad arricchire questo impianto sportivo e abbiamo lasciato al quartiere la scelta sul tema dei parcheggi e quindi il quartiere avrà il dovere e l'onere di fare la sintesi abbiamo fatto quattro proposte, scelgano quella migliore noi facciamo il parcheggio che ritengono più appropriato mi sembra un bel esercizio di partecipazione intorno però a una grande opportunità perché abbiamo vinto un bando da quattro milioni la federazione italiana di palacanestro ha scelto tra gli 8 mila comuni italiani di Pesaro insomma c'è da gioire, da festeggiare e ovviamente quando si realizzano le cose poi bisogna anche saper mettere a terra gli investimenti e discutere con le persone come abbiamo fatto questa sera. L'intenzione è di far partire già nel mese di luglio i lavori per la cittadella del basket con una nuova palestra del valore di 4 milioni di euro Innanzitutto è una grande opportunità per la città perché diventare centro federale nazionale è una grande cosa e di questo dobbiamo essere orgogliosi tutti quanti la città in primis poi per la nostra società chiaramente finalmente avremo la nostra casa non solo dove allenarci ma anche per i nostri tifosi Non sono però mancate le critiche dall'animate affollata assemblea di residenti di Villa San Martino dal crescente impatto di cemento sulla zona alla mancata concertazione con gli abitanti del quartiere L'inizio del lavoro è già programmato la discussione serve solamente per definire dove fare meno danno con un parcheggio questo non è coinvolgimento, è tutt'altra cosa quindi di fatto non ci sorprende perché purtroppo questo qui è il modo superante della nostra amministrazione penso che sia il nostro da tecnici sia un dovere civico quello di mettere in evidenza le cose che vengono fatte male perché in questa città purtroppo l'urbanistica è come ho detto qualche giorno fa un convegno praticamente la nostra urbanistica sta andando contro mano cioè mentre in tutti i paesi del mondo si sta facendo in maniera tale di in qualche modo ridurre i parcheggi per proporre una mobilità diversa nel nostro paese continuiamo a costruire parcheggi, parcheggi su parcheggi dopo chiaramente vediamo che anche la gente siccome non se ne rende conto di questo problema quindi noi continuiamo praticamente a fare esattamente quello che non si deve fare residenti che temono anche l'impatto acustico sul quartiere è l'acustica, qui la gente deve riposare, deve stare tranquilla no, qua si cominciano a fare le partite dalla mattina alla sera io voglio vedere qualcuno che si mette in queste palestre e dopo si vede se si riposa o meno è l'impatto acustico Ricci ha cercato di lenire i timori dell'assemblea uno è il fatto che non tutti capiscono che è un'opportunità storica cioè come facciamo a buttare a mare un investimento del genere facendo felici tante altre città che l'avrebbero voluto rinunciando ad un investimento storico per lo sport e per il basket pesante due è l'ecomostro, ma che ecomostro? è una palestra tra l'altro fatta al top dell'efficientamento energetico per materiale innovativo quindi sarà una struttura bella, adeguata, simile alla piscina e complementare la piscina, queste sono le cose per il resto ci sono ovviamente timori da parte dei residenti anche mancata di informazioni queste assemblee servono per questo mi pare tutto sommato che molti timori che alcuni cittadini avevano siamo stati sciolti e in qualche modo siamo andati via più tranquilli il comune ha messo in chiaro che per costruire il nuovo impianto verranno tolti 16 posti auto dall'attuale area di fronte alla piscina che saranno recuperati e moltiplicati con le 52 aree di sosta che verranno realizzate a partire dalle prossime settimane in via Paganini al quartiere spetterà ora la scelta di parcheggi con una domanda che l'amministrazione ha posto ai residenti di Villa San Martino quella se i 36 posti in più sono sufficienti o meno 5 le opzioni messe sul tavolo che coinvolgono la possibile rinuncia alla pista di skateboard o alla pista ciclabile su via Paganini o a parte del giardino della scuola Don Bosco opzione quest'ultima sgradita a gran parte del quartiere che avrà l'ultima parola sulla questione è emerso una voglia di trovare la soluzione migliore ai parcheggi ne discuteremo all'interno del consiglio di quartiere in maniera pacifica e tranquilla al fine di trovare la soluzione migliore che vada incontro sia ai cittadini sia al volere e al bisogno dei posti che c'è nella zona questa mattina i clienti del mercato settimanale pesarese del San Decenzio e gli stessi ambulanti hanno dato sfoggio di generosità donando diversi materiali utili alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna un'iniziativa che sarà replicata anche negli appuntamenti di giugno del mercato del martedì questa mattina al mercato San Decenzio di Pesaro è iniziata la campagna di raccolta in aiuto della popolazione alluvionata dell'Emilia Romagna gli ambulanti del mercato rappresentati da Valerio Tamburini insieme all'UNSI, Unione Nazionale e sotto ufficiali italiani hanno da oggi iniziato a raccogliere tutti i beni di prima necessità da recapitare a tutte le famiglie in gravi condizioni residenti nei territori ancora allagati martedì 6 e martedì 13 si continuerà a raccogliere quanto più materiale possibile sempre davanti al bar ciclone situato al centro del mercato dalle ore 8 alle ore 13 questa grande raccolta è iniziata oggi con molto successo la gente capisce la situazione ma soprattutto gli ambulanti che hanno partecipato molto a questa iniziativa e anche la gente stessa ci sta portando una marea di roba noi faremo questa raccolta per ancora altri due martedì il giorno 6 e il giorno 13 del mese di giugno e quindi è una raccolta particolare proprio per la gente che ha perso tutto ci serve un po' di tutto ma soprattutto cibi a lunga conservazione cose per igiene intima e tantissime altre cose che appunto servono quando uno ha perso il tutto cibo, alimenti soprattutto e guardate candeggina, stracci questi sono strofinacci per pulire ecco quello che ci serve lenzuola, coprilenzuola, cuscini il tutto quando uno ha perso tutto serve tutto questa è la realtà noi abbiamo un'associazione che si chiama UNSI che sono l'unione nazionale sud ufficiali italiani che sono dei sud ufficiali dell'esercito in pensione che appunto hanno la sede sia a Urbino che a Pesaro che arrivano qui con dei camion e portano il tutto distribuendo poi la roba direttamente nelle zone alluvionate quindi la cosa è molto seria e va direttamente proprio nel luogo in essere in Emilia-Normania portiamo noi, direttamente noi con mezzi che ci prestano andiamo su, ultimamente abbiamo portato una quindicina di bancali d'acqua se troviamo il mezzo idoneo partiamo subito nelle basi dove ci dicono poi la protezione civile sul posto dove c'è bisogno poi andiamo a portare la roba la situazione è quella che si vede in tv e ancora ci sono posti che c'è ancora l'acqua alta e c'è ancora tanto da fare tantissimo che poi ora si è seccato anche il fango è diventato cemento perciò ora il doppio lavoro speriamo di ritornare su anche a dare una mano fisicamente ho portato dei pantaloni da uomo, felpe, un buonissimo stato che è uno di mio marito sono molto contenta e poi porterò anche dei viveri, delle cose perché ho visto delle immagini davvero che mi hanno colpito molto si terranno domani alle 15 a Sant'Angelo Invado i funerali di Fabio Pedini noto imprenditore stroncato da un malore la notte scorsa l'uomo si è spento all'età di 68 anni all'ospedale di Urbino poche ore dopo il ricovero e il trasporto d'urgenza dalla sua casa di Sant'Angelo Invado Pedini nel 1986 fondò la stireria Trattamenti Tessil Italia poi trasformata in lavanderia industriale di pregio diventando un punto di riferimento per brand internazionali di moda e alta moda una notizia di cronaca domenica sera un 34enne è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza pubblico ufficiale in occasione delle celebrazioni del trionfo del carnevale di Fossombrone era circa mezzanotte quando un addetto della vigilanza privata segnalava infatti di essere dovuto intervenire per sedare una lite tra ragazzi all'interno di un negozio i carabinieri dunque hanno intercettato il giovane resosi responsabile di aggressioni e gravi minacce quest'ultimo in stato di alterazione psicofisica durante le fasi dell'identificazione ha aggredito i militari ed è stato arrestato nella festa del trionfo del carnevale sono stati anche denunciati altri 12 giovani per ubriachezza molesta a Pesaro per il quarto anno consecutivo torna la pedonalizzazione di parte di Viale Trieste un intervento che comincerà il 2 giugno e durerà fino al 3 settembre con annesse modifiche alla viabilità i lavori di sistemazione sono quasi terminati e l'arredo urbano prevede piante esotiche fiori colorati e sedute bianche ed ora ci spostiamo a Valle Foglia dove sono ufficialmente conclusi i lavori per la nuova piazza di Montecchio che si chiamerà piazza del municipio essendo adiacente al palazzo comunale recentemente edificato il taglio del nastro è previsto per venerdì 2 giugno alle 9 di mattina l'associazione turistica Proloco di Candelara ha eletto il suo nuovo consiglio direttivo individuando come presidente Lorenzo Montesi direttivo completato dai consiglieri Alex Bernacchia Elisa Cecchini, Gastone Marinoni Umberto Del Pivo, Francesca Francolini Egiziano Giorgini, Davide Roscetti Federico Malaventura, Luca Pietrelli e Gino Pietrelli la direzione artistica della Proloco continua ad essere affidata a Pier Giorgio Pietrelli ed ora una notizia di teatro che riguarda la compagnia pesarese la piccola ribalta che si è aggiudicata il premio per il miglior spettacolo in occasione della tredicesima edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Paolo Dego tenutosi a Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno a meritarsi il riconoscimento è stato lo spettacolo 7 minuti consiglio di fabbrica di Stefano Massimi per la regia di Francesco Corliano Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo della Camera di Commercio delle Marche e di Svem che ieri hanno fatto tappa a Pesaro per parlare delle opportunità del PNRR e degli investimenti necessari per lo sviluppo del territorio attraverso bandi dedicati Carissime amiche e carissimi amici di Rossini TV siamo nella sede della Camera di Commercio di Pesaro in corso 11 settembre un incontro molto molto interessante per chi? per gli imprenditori perché? perché la Camera di Commercio presieduta da Gino Sabatini ha voluto ospitare la Svem la società di sviluppo Europa Marche per presentare come si potrà accedere a tantissimi bandi quindi a tantissime risorse che sono fondamentali in questo preciso momento per l'economia del nostro territorio viste considerate tutte le questioni tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi essere a Pesaro è importante perché per la prima volta iniziamo cioè la Svem in collaborazione con la Camera di Commercio perciò iniziamo a diffondere quello che sono i bandi le linee e come vengono sviluppati si è preferito e condivido la riflessione del Presidente Sandori del tutto il suo CDA di portare qui i dirigenti che poi sono quelli che andranno a operare direttamente sui vari fondi e vari bandi in modo che hanno un dialogo con tutti i stakeholder del territorio pesarese auspico che sia una iniziativa importante e molto sentita per il territorio economico pesarese abbiamo molte entrate dovute a questi fondi delle economie importanti che potremmo sviluppare su dei progetti che vanno a valorizzare il mondo economico in questo caso pesarese ma anche sviluppare delle reti di impresa su processi innovativi che possono dare un valore aggiunto all'economia regionale il nostro obiettivo è quello di ridurre i tempi il nostro CDA è stato nominato il 14 gennaio con tempi di attesa per le imprese di un anno e qualche mese le abbiamo ridotte a circa tre mesi questo perché? perché consente sia alle imprese ma anche al territorio di poter calare nel più breve tempo possibile le risorse europee delle varie programmazioni noi in questo momento ci stiamo occupando della vecchia programmazione 14-20 quindi abbiamo il compito entro il 31 dicembre 2023 di utilizzare di far utilizzare ai dirigenti della regione tutte quelle che sono le risorse della vecchia programmazione quindi parliamo di milioni di euro circa sono rimasti ancora 400 milioni di euro da distribuire a imprese e ad enti locali che se consideriamo il bando normalmente al 50% sarebbe una ricchezza calata sul territorio di circa il doppio quindi di 800 milioni di euro la crescita e il lavoro dei prossimi anni dipendono in gran parte dalla capacità di mettere a terra la grande mole di investimenti pubblici che abbiamo a disposizione la grande partita del PNRR gli altri fondi regionali che gestisce la regione da questo dipende la crescita dei prossimi anni quindi per tanti anni abbiamo lamentato il fatto che mancavano risorse per gli investimenti oggi ce ne sono tante dobbiamo spendere non possiamo vivere il PNRR come un fastidio è una grande opportunità di sviluppo e a maggior ragione nel nostro territorio dobbiamo farlo dove abbiamo attratto già tantissimi investimenti solo nella città di Pesaro parliamo di 1 miliardo e 700 milioni quindi pancia a terra al lavoro per mettere a terra più velocemente gli investimenti dare opportunità alle imprese e questo incontro di oggi in Camera di Commercio è molto molto utile da questo punto di vista e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire i temi di Camera di Commercio e Svem attraverso uno speciale d'approfondimento che Rossini TV trasmetterà venerdì 2 giugno alle ore 20 un altro speciale ma di altro genere è invece quello che riguarda le novità proposte dal rifugio Chalet Principe Corsini sul Monte Nerone che vi proporremo giovedì 1 giugno alle 21.20 ma che vi anticipiamo ora nel servizio di Francesca Tricca oggi sabato 27 maggio a distanza di due anni dalla riapertura del rifugio Chalet Principe Corsini ci troviamo nuovamente per una nuova inaugurazione si inaugura oggi un nuovissimo parco giochi per bambini e servizi innovativi per gli escursionisti questa mattina abbiamo inaugurato questo nuovo parco giochi qui a Monte Nerone insieme anche dei servizi innovativi per escursionisti con una tabella con 50 percorsi dedicati agli amanti dell'outdoor trekking, bike canyoning cordate quindi servizi che servono per poter vivere di più e meglio la montagna sicuramente come dicevi l'obiettivo deve essere sempre quello di conciliare il rispetto della natura ma anche con la vitalità di questi luoghi perché altrimenti da questi luoghi poi spesso ci si scappa Fabrizia Lucchetti abbiamo ricordato in questa giornata i prestigiosi premi e riconoscimenti che avete avuto Sì quest'anno è stato un anno particolarmente fortunato abbiamo iniziato a febbraio con il premio ricevuto alla BIT di Milano un best green accommodation Italia quindi questa struttura è risultata la miglior struttura green d'Italia un premio molto prestigioso chiaramente ci ha fatto tanto onore riceverlo e forti di questa vocazione del rispetto dell'ambiente della montagna del nostro territorio e a seguire abbiamo avuto un riconoscimento dallo slow food di Urbino e per chiudere questa tripletta oggi abbiamo inaugurato il parco giochi un progetto iniziato un anno e mezzo fa circa quindi ci ha fatto piacere particolarmente piacere raggiungere l'obiettivo perché è stato anche molto difficile sappiamo che qui andiamo ad intervenire in aree protette quindi è tutto vincolato e poter fare qualsiasi cosa qui rappresenta una sfida una vittoria al momento del raggiungimento e concludiamo il nostro telegiornale con una importante informazione di servizio per voi telespettatori da giugno infatti il nostro spazio di Rossini News cambia orario a cominciare dalla sua prima edizione quella abituale delle 19.40 che da giovedì primo giugno vedrà il notiziario cominciare alle 19.30 dunque un lieve cambio di 10 minuti in anticipo nelle abitudini di voi telespettatori con il nostro spazio informativo della sera in onda dal lunedì al venerdì prima edizione come detto alle 19.30 con diretta anche su Facebook prima replica alle 20.30 le altre repliche andranno in onda alle 23.30 a mezzanotte e mezza e il giorno seguente alle 6.30 di mattina e alle 13.30 e come detto prendete nota di queste importanti informazioni sulla nostra programmazione di Rossini News domani mercoledì 31 maggio saremo ancora con voi a partire dalle 19.40 ma da giovedì primo giugno si cambia con Rossini News in prima edizione alle 19.30 ed ora vi ricordiamo invece alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che alle 21.20 vi propone il nostro speciale dedicato all'open night dell'alberghiero Santa Marta con il corso serale della scuola superiore pesarese open night a partire dalle 21.20 a seguire c'è storie alle 22 il meglio di storie con i racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino alle 22 vi riproporremo la puntata dedicata a Gianfranco Tonti della IFI le repliche anche giovedì alle 15.15 sabato alle 21 e domenica alle 12 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina come sempre in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e invece si conclude qui l'informazione di Rossini News da parte mia di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti